Dopo tante sollecitazioni e le mancate risposte avete deciso di indire uno sciopero generale per venerdì giorno 14 dicembre a partire dalle 9. Quali sono le motivazioni perché la città di Licata e i cittadini di Licata debbano scendere in campo, in piazza per protestare, per dire a qualcuno che non se ne può più? E' normale, se tutti ci facciamo un giro per le strade non ci sono parole per distribuire, già sappiamo che tutti i negozi sono tutti all'astroco di chiusura e che gli imprenditori non ce la facciamo più, è un bruttissimo Natale, quest'anno sarà un Natale che forse è tempo di guerra solo se lo potevano pensare di avere queste cose. Quando si organizza uno sciopero ci sono delle tematiche, qui le tematiche sono variegate mi pare di capire, si va anche dalla sanità, la spazzatura, le attività produttive, quale vuole essere il motivo trascinante di questo sciopero di giorno 14? Allora la prima cosa da tutte è questo aumento del limo che ci hanno raddoppiato, magari chi pagherebbe 100 euro sarebbero 200 euro e magari poverini eppure una somma, ma chi per esempio come noi abbiamo dei capannoni industriali o commerciali o qualunque sia, che a posto di pagare 8 mila euro ci va a pagare 16 mila euro, non sono 100 euro come ha detto uno del comune che diceva vabbè piccole somme sono, non sono piccole somme signore, da 8 mila a 16 mila sono soldini e non è facile al giorno oggi guadagnare 16 mila euro per andare a versare limo, soltanto limo stiamo parlando, attenzione perché ci sono tantissime tasse dalla spazzatura a qualsiasi cosa, ma solo per limo praticamente ci avete raddoppiato la dose. Ecco giorno 14 come sarà strutturato, da dove si partirà, come sarà organizzato questo sciopero generale? Allora alle 9 di mattina partiremo dalla via Gela presso il Ballarosa e si attraverserà tutto il rettifilo Garibaldi e lì si andrà pure alla zona marina e si va a finire verso l'una in piazza Progresso dove ci sarà un piccolo comizio che parleremo tutti gli imprenditori disposti a parlare. Quindi chi deve partecipare a questo sciopero di venerdì? Io spero che partecipano tutti in grande massa, anzi anche se so che tante persone stamattina ho visto che sono scoraggiate. Stamattina ci abbiamo fatto un po' di giro nei bar dove ci sono gente per davvero che lavora tutto il giorno dalla mattina alla sera e non sa nemmeno dove prendere questi soldi. No, non le vogliamo pagare, non riusciamo a pagarle questi soldi, lui ci dovrà spiegare come pagarle e quando.